bene buongiorno parliamo oggi di contratto contratto collettivo nazionale ce n'è uno appena firmato lo scorso 14 luglio all'aran ne parliamo con marcello pacifico presidente nazionale anief buongiorno pacifico buongiorno a tutti voi pacifico voi vi siete seduti per la prima volta al tavolo con l'aran sottoscritto questa ipotesi di contratto contratto che solo un sindacato che la will scuola rua non ha firmato brevissimamente quali sono le novità più importanti che i lavoratori di cui i lavoratori beneficeranno a partire dal prossimo anno scolastico anche se va ha detto che bisognerà attendere la sottoscrizione definitiva del contratto prima che poi diventi attuati attuativo appunto lo stesso pacifico una sintesi di quello che si devono aspettare poi i lavoratori una volta che verrà appunto sottoscritto questo contratto prego ma hai detto bene innanzitutto parliamo di ipotesi che cosa vuol dire è un'ipotesi il contratto entrerà in vigore quando sarà sottoscritto definitivamente c'è qualcuno ha detto tu la will che non ha sottoscritto bisogna verificare e puoi vedere se poi la will non firmerà il contratto definitivo in passato è successo per esempio che lo snaz non aveva firmato la gilda non aveva firmata l'ipotesi ma poi ha firmato il contratto definitivo lo snaz non aveva firmato ha fatto il ricorso nell'ipotesi nel contratto e dopo due mesi ha firmato il contratto quindi innanzitutto quindi dobbiamo chiarire questa cosa qua perché è fondamentale perché sennò sarebbe facile non firmare i contratti o l'ipotesi scusami di contratto e poi però andare a sottoscrivere i test definitivi qui il problema non è di facile o difficile il problema è poi nella concretezza allora parliamo di quello che abbiamo sottoscritto il 14 luglio prima cosa il 14 luglio abbiamo sottoscritto un contratto che è in realtà riguarda il 5 per cento delle risorse residue messe in legge di bilancio questo che cosa vuol dire che il 6 dicembre prima tutti i sindacati abbiamo firmato un altro contratto che è quello che ha dato il grosso del degli aumenti contrattuali tra virgolette e allora vorrei fare questa premessa aumenti contrattuali abbiamo dato tanto pochissimo però certamente per il triennio 2019 2021 è più dell'inflazione del 2019 2021 l'inflazione di due punti e mezzo noi abbiamo avuto aumenti su contrattuali per più di quattro punti il problema che nel precedente contratto quello 16 18 che veniva da un blocco decennale del contratto cioè dal 2008 si diedero aumenti del 3 48 rispetto a un'inflazione di 11 punti quindi che cosa vuol dire che noi con questo contratto abbiamo cercato di recuperare a qualcosina di quel gap poi cosa è successo c'è stata la guerra in ucraina dopo il covid che ha fatto schizzare l'inflazione del 2022 2023 di 12 punti quindi questi soldi che abbiamo dato e li abbiamo voluti dare ora dopo tre anni di ritardo e subito perché se no già già il costo della vita era veramente grande li abbiamo dati ma non si può pensare che è colpa di questo contratto perché nel 2022 nel 2023 non si sono adeguati gli stipendi ma se vuoi ne parleremo l'indennità di vacanza contrattuale è altro però mi hai chiesto una domanda specifica quali sono le novità del prossimo contratto allora si presume si può presumere che verso settembre massimo ottobre dipende dalla celerità del governo degli organi di garanzia saremo convocati per la sottoscrizione definitiva appena si firma quello che nel contratto subito entra in vigore e cosa entra in vigore due cose fondamentali lo voglio spiegare in maniera molto semplice la prima la primazia cioè la priorità del contratto rispetto alla legge dove per esempio sul salario accessorio la legge è intervenuta dicendo che il ministro poteva dare i soldi ai tutor agli orientatori abbiamo deciso che questi criteri vengono definiti in contratto abbiamo deciso per esempio tempi più certi sulla contrattazione l'informativa deve essere data entro dieci giorni e si deve concludere entro altri 20 giorni che si vuol dire che la contrattazione di istituto diventa di nuovo centrale nel poter fare queste relazioni sindacali e distribuire le regole risorse che alle scuole del salario accessorio ma anche le regole certe per chiudere le contrattazioni che molto spesso si chiudono a anno iniziato persino a fine anno poi l'altra cosa fondamentale che abbiamo messo nel contratto che la formazione va retribuita vorrei ricordare che fino a due anni fa una legge diceva che dovevi fare dei corsi sul sostegno se non eri insegnati di sostegno fuori dall'orario di servizio a titolo gratuito per lo stato invece siamo andate a dire finalmente che la formazione viene fatta in orario di servizio abbiamo dato dei soldi al personale ata per la formazione lo personale ata aveva fino a oggi lo 0,5 per cento dei soldi istanziati e poi non ha messo nel contratto quello che già per leggere come riusciti a ottenere cioè le deroghe rispetto ai vincoli in particolar modo sul principi della genitorialità sul principio della disabilità e sul principio dell'assistenza guardate che l'ultimo contratto che derogava l'assegnazione provvisoria per i figli fino a 11 anni era del 2011 cioè dopo 13 anni finalmente abbiamo invertito questo poi ci saranno delle cose concrete vabbè l'assegno una tantum se non lo mettevamo nel contratto quei 60 80 euro ma cosa sono 80 euro niente ma non sarebbero stati distribuiti i ds già partivamo da una ipotesi che partiva da 6 euro mensili abbiamo siamo arrivati a 60 euro mensili da 6 euro mensili per l'indennità cioè alla fine qualcuno si lamenti ma il ds già ora è q ma il nome a noi non interessa guardiamo però anche gli aspetti se vogliamo negativi lei ha detto che siete riusciti su alcuni punti a far prevalere il contratto sulla normativa sulla legge questo non è accaduto però per quanto riguarda i vincoli sui vincoli parliamo di mobilità c'è una legge del 2019 poi in parte diciamo ridimensionata due anni dopo che però ad oggi prevede un triennio di blocco e che quindi insomma su questo c'è da lavorare attenzione che i vincoli è il testo unico del 94 che mette il vincolo triennale uno non si può svegliare oggi nel 2024 dopo 30 anni e dire ma il vincolo triennale il problema è un vincolo quinquennale che è stato messo nel 2011 anche nel 2011 poi l'abbiamo levato con la carrozza nel 2013 anief con un emendamento poi è stato rimesso nel 2019 con l'accordo degli altri sindacati col ministro fioramonti io lo voglio dire anief convocata dopodiché siamo riusciti a convincere gli altri sindacati il governo e tutti quanti che era una cosa assurda perché la continuità didattica non viene non viene favorita dal divieto dei trasferimenti la continuità didattica viene favorita dalla stabilizzazione del personale dagli incentivi a lavorare in una terra distante da casa tua da queste cose viene favorita la continuità didattica io vorrei ricordare esiste una legge che si chiama legge brunetta la legge brunetta non è di oggi del 2009 che dice che il contratto in contrasto con la legge va disapplicato poi esiste un'altra legge che si chiama legge 107 buona scuola che all'ultimo comma è del 2015 dice che tutte le norme contrattuali lo ribadisce in contrasto con la legge vanno disapplicate noi non potevamo nel contratto andare a dire si disapplica la legge nel contratto potevamo andare a fare delle deroghe attutire in base a quali principi il principio della generalità siccome esiste un'altra legge dello stato italiano che dice che sei bambini lo stato ti deve favorire nei trasferimenti e allora abbiamo inserito il principio ora l'altra legge è quella la 104 l'altra legge ancora è quella dell'assistenza da esterni si è dato sempre un nome inglese io non è perché non amo l'inglese però abbiamo nomi italiani quindi la chiamo legge sull'assistenza abbiamo dato tre mesi in più sul congetto parentale e sul concedo per le donne vittime di violenza cosa che non c'era abbiamo detto tre giorni e non due come a un certo punto stava succedendo di permessi retribuiti e precari abbiamo sbloccato le posizioni economiche del personale ata e da vent'anni che erano bloccate si è scoperto tutto un tratto che c'erano 70 milioni la metà dei soldi messi da parte per fare le posizioni economiche allora queste cose ripeto siamo nell'alveo del 5 per cento delle risorse contrattuali però sono piccole cose e poi abbiamo evitato pure che si andasse a definire nel contratto quello che già la legge brunetta ha detto sulle sanzioni disciplinari sembrava un messaggio sbagliato sembrava che dovevamo punire chi lavora a scuola perché non avevamo le norme chiare ma già le abbiamo le norme chiare io ti devo dire la verità il nostro servizio di consulenza annulla il 99 per cento delle contestazioni da debito pacifico ma il prossimo anno secondo voi vi saranno novità sul fronte dei vincoli perché è difficile dirlo adesso però coloro che non hanno avuto assegnazione provvisoria quest'anno che vorranno ritentare o trasferimento hanno delle possibilità ancora per poterlo fare magari sono stati messi in ruolo o verranno in messi in ruolo in quest'estate insomma perché sembra che invece ci sarà un inasprimento sui vincoli nel 2024 cosa vi risulta no non ci sarà anzi andremo a riscrivere un contratto che ad oggi era bloccato se ricordate quest'anno anche Anieff ha firmato un'intesa che era un'interpretazione sul vecchio contratto integrativo che doveva essere ogni bienio aggiornato e quest'anno non tocca toccherà il prossimo anno aggiornare il contratto e lì metteremo questi nuovi criteri io vi ripeto il criterio della genitorialità che è un criterio guardate avere dei figli sotto gli undici anni quanti hanno figli sotto gli undici anni in questi mesi in questi anni sono stati lontani dei loro figli è un criterio noi abbiamo fatto pure un contenzioso perché aveva un figlio fino a tre anni l'abbiamo portato a undici certamente il nostro principio ci rispondono che l'Europa la commissione europea ha come obiettivo prioritario nel PNRR la continuità didattica e ritiene che i vincoli siano un qualcosa da mettere però ripeto il vincolo triennale esiste dal 94 almeno da quando io mi occupo di scuola primo mi dovevo diplomare però da quando io mi occupo di scuola esiste il vincolo triennale sapete qual è il problema che nel 2011 la legge ha unito l'assegnazione provvisoria che era annuale al vincolo triennale fu bloccata l'assegnazione provvisoria allora magari con questo contratto e con questo humor diverso che oggi si respira potremmo riuscire anche con le assegnazioni provvisorie a mitigare e a realizzare poi che hai il diritto alla famiglia oltre al diritto al lavoro a riconoscimento specifico un accenno alla parte economica abbiamo detto che insomma sono risorse residue non certo eclatanti ma sono le stesse affidate assegnate per tutto a tutto il pubblico impiego la scuola sappiamo che non può avere risorse aggiuntive oppure voi sostenete che in linea teorica oltre che pratica potrebbe avere un surplus di soldi rispetto allora sai sai perché Anief ha firmato perché per la prima volta abbiamo dato mezzo miliardi in più alla scuola sono 500 milioni in più rispetto a quelli che erano stati approvati in tre leggi di bilancio distribuiti a 3 milioni e medio di dipendenti pubblici la legge di bilancio recente l'ultima legge di bilancio taglia mille scuole nei prossimi sette anni quindi diciamo il principio era di nuovo tagliamo sulla scuola ora dal tagliere sulla scuola siamo arrivati a investire sulla scuola guardate non è una cosa semplice 500 milioni cioè mezzo miliardo su sei miliardi e mezzo non è poco non è tanto però è un qualcosa cioè sei miliardi e mezzo per tutti i dipendenti mezzo miliardi in più per la scuola è ovvio evidente che negli ultimi due anni l'inflazione è salita di 12 punti questo che cosa vuol dire il governo ha dato un uno tantum un assegno di un punto e mezzo per il 2023 draghi aveva dato il precedente governo un punto e mezzo per il 2022 quindi complessivamente noi abbiamo un aumento dell'indenità di vacanza contrattuale di un punto e mezzo che per ora nel nostro stipendio perché è scaduto il contratto e quindi per ora ce lo conserviamo poi quando si firmi il contratto viene assorbito però però ce lo conserviamo in automatico mensile per il 2022 dopodiché abbiamo avuto un assegno una tanto ma ora a luglio sono arrivati i soldi di un altro 1 e 5 stiamo parlando di 10 euro 12 euro quello che è per il 2023 questo non fa parte del nostro stipendio perché non è indennità di vacanza contrattuale complessivamente sono tre punti ma se l'inflazione è stretta di 12 punti e siccome la legge dice che l'indenità di vacanza contrattuale deve essere pagata al 50 per cento dell'inflazione significa che in questo momento ci mancano almeno tre punti noi abbiamo quantificato e c'è un ricorso pendente in corte costituzionale abbiamo messo predisposto come anni fu una specifica diffida per recuperare non il 2013 ma il 2022 2023 cioè l'indenità di vacanza contrattuale si parla di 150 euro mensili automatici di aumento di stipendi e 2000 euro di arretrati vedremo cosa ci dirà la consulta intanto consigliamo a tutti di inviare questo documento di inviarlo di inviare questa richiesta al MEF questa diffida in maniera tale che se un giorno dovessimo avere ragione in corte costituzionale finalmente uno potrebbe avere quello che dice la legge la legge addirittura guardate è del 74 dice che è poi stata rinnovata poi con la privatizzazione del pubblico impiego il lavoratore pubblico deve essere ristorato in attesa del rinnovo contrattuale del aumento del costo della vita quindi se la tua domanda è ma allora firmiamo il contratto nuovo prima ci devono essere i soldi ma prima dei soldi del contratto ci devono essere i soldi dell'indennità di vacanza contrattuale prima specifico certo chiarissimo prima mettiamo quella e poi arriviamo al nuovo l'ultima domanda è sul nuovo contratto 2022 2024 probabilmente se ne riparlerà a gennaio prossimo quindi praticamente nell'ultimo anno di validità dello stesso contratto possiamo dire alle solite per la scuola non è una novità cosa chiederete in particolare in un minuto pacifico quali sono i vostri obiettivi per il nuovo contratto collettivo nazionale ci vogliono 18 miliardi per firmare il contratto di cui 9 subito per l'indennità di vacanza contrattuale quindi penso che addirittura ce ne andremo al 2025 2026 però vogliamo subito i soldi dell'indennità di vacanza contrattuale sarebbe bello finalmente dopo i tre giorni di permesso per i precari garantire la parità di trattamento giuridiche ed economica tra personele precarie di ruolo su ferie su permessi su salari accessorio su scatti di ansiedità cioè su tutto che è quello che ci chiede l'europa e gli insegnanti di religione cattolica l'avevano avuto tanti anni fa però poi sono stati precarizzati oggi sono i più precari della scuola italiana in romania vi faccio un esempio non esiste differenza tra persone precarie di ruolo e perché in italia ancora c'è un decreto legge infrazioni che ci parlava di una specifica procedura di infrazione grazie a daniel il parlamento ne ha preso atto però quelle soluzioni non risolvono il problema ci vogliono i soldi perché come abbiamo visto per i tre giorni di permesso ci vogliono i soldi per poter realizzare questo obiettivo ed è quello che chiederemo al governo con forza poi ovviamente continueremo in contrattazione integrativa ci vogliono i soldi per i dsga per cambiare le parti variabili ci vogliono per il personale ata ci vogliono tante tante risorse lavoreremo ora si scriverà a settembre il nadef la nota di aggiornamento anzi ora ad agosto del nadef della legge di bilancio è importante andare a scrivere una legge di bilancio ottobre che abbia questi fondi se no è impossibile pensare già di firmare un luogo quindi quindi questo preclude insomma eventuali azioni di lotta precedenti fino insomma a che non verrà diciamo non verranno scoperte le carte attraverso il def di un momento di economia e finanza mi sembra di capire ma domanda finale qualora il def non sia corrispondente alle attese per quanto riguarda la scuola intendo diceva von clausewitz nell'arte della guerra per raggiungere un obiettivo tu devi avere da una parte le armate i soldati e tutto però poi devi avere la volontà e allora io credo che il personale della scuola sia molto stremato sia molto deluso sia molto arrabbiato in questo momento persino rinunciare a un giorno di stipendio quando 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 hai gli stipendi lontani dall'inflazione non è concreto bisognerebbe cambiare le leggi sugli scioperi bisognerebbe dire garantire che chi sciopera lo stipendio retribuito quindi diciamo la lotta noi continueremo a fare certamente manifestazioni continueremo a fare certamente audizioni in tutte le sedi continueremo anche grazie a voi con la stampa a denunciare quello che non va ci vuole una grande presa di coscienza bisogna fare tante assemblee e quello che faremo da settembre partiremo con una campagna di mobilitazione presso le scuole per informare i lavoratori dei loro diritti dei loro doveri per consultarli e per poter andare a capire insieme quali sono le strategie per meglio informarli e quindi rendere collettivo un problema che è della società italiana tutta bene grazie marcello pacifico presidente nazionale anief